Buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo qui per questo incontro prima delle canonizzazioni di domenica con degli ospiti, degli amici e siamo lieti di questa occasione. Darei però anzitutto subito a loro la parola, la possibilità intanto di dirci una loro parola su quello che avverrà nei prossimi giorni e anzitutto forse a Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Buenos Aires. Ascolti inmediatamente la possibilità di dirci. Buongiorno a tutti, molto grazie per accompagnarci. Per gli argentini è un fatto importantissimo tenere la nostra prima Santa Argentina e per questo ci sentiamo molto felici, molto felici e molto difficili a vivere in la actualità, in questo 2024, le noti della santità di Mamantula. Quindi vogliamo condividere con voi la felicità, ma anche non quedarnos soltanto in la memoria agradecida per la sua vita, ma anche desafiare con le noti della santità di poter vivere nel mondo di oggi e in l'Argentina di oggi lo che Mamantula nos legò. Grazie. Grazie a lei, diamo forse la parola a Monsignor Bocali Ciglic per una parola e poi... Buongiorno. 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 Soy obispo di Santiago del Estero, es una regione del noroeste de la Argentina, a 1.100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, de la capital del país. En esta Santiago del Estero ha nacido María Antonia de San José o la Mamantula que va a ser canonizada el domingo. Esas son sus orígenes, sus raíces y el inicio de su vida. Y ciertamente nos dio la noticia de la canonización una profunda alegría, muy esperada por nuestra iglesia y por nuestro pueblo. Estos últimos años hemos vivido en una expectativa y en la preparación de este acontecimiento, ¿no? Y nos da muchísima alegría y gratitud de corazón, ¿no? Agradecidos por este don. Sabemos que el santo es un don de Dios. Así lo concebimos, así lo vivimos, ¿no? Venimos a agradecerlo también en la persona del Papa Francisco, ¿no? Pero trayendo también los sentimientos y actitudes de nuestro pueblo fiel, ¿no? Nos da mucha alegría de compartir aquí en el centro de la cristiandad, ¿no? Este acontecimiento de una mujer que nació en un lugar muy humilde, muy pobre, pero que tiene un alcance universal en este momento. Muchas gracias. Gracias, Excelencia. Forse una parola da parte della postulatrice, prima di passare la parola a Monsignor Bocciatei. Sí, buongiorno a tutti. Yo soy el laborato Silvia Correale, soy italo-argentina, estoy aquí desde muchos años, porto adelante varias causas de gratificación y soy muy contenta, felicísima, ¿no? Como postulatrice de ser arrivata a este momento, soprattutto en una causa como quella de María Antonia de San Giuseppe París Figueroa, que para cualquier mujer argentina es un modelo de vida muy importante y que nosotros, por todo lo que ha hecho, no solo per l'ambito ecclesiale sino anche per la historia de la nascita de nuestra Patria, la consideramos la madre de la Patria, la madre de la Patria y en este momento es muy importante esta canonización. Gracias. Gracias a usted, Monsignor Bocciatei, Secretario de la Conferencia Episcopal. Ecco, sono Alberto Bocciatei, Secretario Generale de la Conferencia Episcopal argentina, Vescovo Auxiliario de La Plata, vicino a Buenos Aires. Como Chiesa, noi siamo en fiesta, como diceva el Arcivescovo de Buenos Aires, ringraziando Papa Francesco por este regalo que nos hace con esta canonización, en el contexto de la sinodalidad, en un tiempo fuerte de una Chiesa sinodale, laicale, de la ricerca de la donna, l'anno de preghera en preparación al año santo próximo, el 25. Entonces, es un contexto ecclesiale maravilloso para sottolinear la vida de esta donna, ma Mantula, que con una decisión fortísima de fe, ha peregrinado, ha fatto todo el giro prácticamente de Argentina de aquel tiempo, con l'annuncio del Vangelo y la predica de los ejercicios espirituales, sottolineando la espiritualidad, el bisogno de la espiritualidad. Quindi, siamo en fiesta e ringraziamo Papa Francesco e tutti voi di essere presenti oggi qua. Grazie, e prima di cominciare con le interviste, ringrazio le loro eccellenze e la postulatrice che sono qui, ringrazio anche le altre eccellenze dell'Argentina che sono qui in questi giorni e che sono qui in sala con noi, e quindi se c'è la possibilità eventualmente anche di avere una conversazione con loro è possibile. chiederei a chi è qui al tavolo se potete mettervi un attimo davanti, così aiutiamo i fotografi a fare una foto di voi, e poi possiamo cominciare con le interviste qui in sala.